Giovanni Battista Giovanni Battista, da cui abbiamo preso questa espressione per la riflessione di oggi, sei tu colui che deve venire, è in ascolto della predicazione di Gesù. Gli riferiscono il pensiero di Gesù e tutto sommato rimane perplesso. L'essenziale della religione ebraica, ai tempi di Giovanni Battista, è riconoscere Dio nei suoi diritti e cercare di aggraziarselo con offerte e preghiere. Dio puniva i cattivi e ricompensava i giusti. Giovanni Battista predicava questa religione e aspettava il giorno glorioso che avrebbe fatto giustizia dei cattivi. Credeva, come noi, che il vero mezzo per sradicare il male è quello di fulminare i colpivoli. Quando Giovanni comprese che Gesù non è il punitore, ma è colui che porta la conversione, colui che porta la pace al cuore e annuncia la conversione totale di vita, ma Giovanni non si trova più con questa religione e deve cominciare piano piano a convertirsi alla predicazione di Gesù. Giovanni, quando comprese che Gesù si rifiutava di intervenire anche nelle questioni politiche, rimane perplesso e manda degli ambasciatori, sei tu che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro? E alla risposta di Gesù, dite i ciechi vedono, gli storpi camminano, i sordi odono, eccetera. C'è la profizia di Isaia, segno per riconoscere il Messia, il figlio di Dio che si fa uomo. Giovanni Battista si batte il petto e comincia a convertirsi il cammino di conversione. Nel frattempo Gesù doveva essere avuto la testimonianza nel fiume Giordano con le parole di Dio «Questo è il mio figlio prediletto, ascoltatelo», Gesù si ritirà nel deserto. Non più le distese della Galilea e l'acqua belle e tranquille dei fiumi della Galilea, ma sui disrupi della montagna, sale in montagna e lì comincia la vita penitente. Solo? No, non solo, perché gli fa compagnia un suo nemico, Satano, che sta lì ad osservarlo, a spiare i suoi comportamenti, a rendersi conto se veramente è il figlio di Dio e lo mette alla prova. Ecco, io ti faccio vedere tutte le ricchezze del mondo. Questo è il mio possesso. Se tu ti incinocchi ai miei piedi, tutto questo che tu vedi sarà tuo. E Gesù lo caccia via, non tentare il Signore Dio tuo. Vai via, Satana. Abbiamo qui un accenno al deserto di Venafro. Anche a Venafro abbiamo il Padre Pio, che fa l'esperienza dell'isolamento, della conversione, di cominciare un cammino di donazione. E riceve la visita, come Gesù nel deserto riceve Satana, che gli promette mare e monti e dirà, se tu non preghi per gli altri, tutta più puoi pregare per te stesso, se tu mi ascolta, io non ti darò mai più fastidio, anzi ti spianerò la vita. E Gesù vai via da me, o Satana. E Satana ti farà allora tante di quel male che mente umana non potrà mai immaginare. E Padre Pio, contento, sono libero di seguire Gesù sul Calvario fino alla crocifiazione e dare la mia vita per la salvezza di tutti. Grazie a tutti.